ma scorrevo tu dai neri di stranden ovunque attento fermi fermi per favore lascia per favore dai fattile dai fattile magari si scarica subito silenzio quando comincio un po' più veloce mi piace, pronti pronti a me 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 perché no! 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 per la fombatina ce l'avevo, ma l'ho scordata per la fombatina ce l'avevo qua l'ho lasciato sull'ota indietro che l'ha presto e chi lo sa chi lo sa! oooh perché no! 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 faccio come alla表ica e proprio sale ニaro perché no! perché no! non lo faccio! faccio come alla provincia faccio come la pista e meglio! come fa? mia! fatiamo la pista! sono molto diversa! io sarei dietro! amand mammonia Asolo la mando, avanti! Asolo del costume del Jack, non del Jack! Eeeh che cazzolo! Ma questo è proprio a voi guardia! Asolo della voce per piacere Francesco Si intende assolo della voce mica come faceva Sandro? Ma questo del&nd năm è cazzo asolo! Ascolta. Ascoltsate! Sei voluto bene in carico a vedere? Eeeh o po понятно! Pippo personale il nome noi ogni presidenta no no attua a ora no no guardate che vi faccio dei morti su me la puberta su nuova l'avete mai sentito? L'acopento non è che testate ma fatica a mozzare non è che fa ammuglante la marona allora vieni l'acopento come è vieni, vieni vieni, vieni 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 via adesso ma ben nom qua in E' verile! Per piacere perché siamo assoluti! Per piacere! Vediamo quest'odore! E' verile! Per piacere! E' verile! Per piacere perché sei assoluto! Per piacere! Vediamo quest'odore! E' verile prima di noi si percebe un po' più piatto! Evviva! E' verile! E' verile! E' verile! No, sono molto fino a quale sono entrato chiedendo! D'abbia che era un po' più bello! E' verile! Perché no! Perché no! Perché no! Perché no! Quella è brava! I Magliori no! I Magliori no! Io ho deposto il strumento! come un gabunzato